Ciao a tutti e benvenuti sul mondo di club. Allora stasera prepareremo o anche per il pranzo una ricetta molto veloce, un couscous di pesce. Io ho preso dal mio freezer 200 grammi di misto per risotti o pasta che ha cozze, vongole e gamberetti, il mio couscous integrale un bicchiere, la stessa quantità di acqua, spezie varie, cipolle, aglio, prezzemolo, quello che avete in casa e in base ai vostri gusti. Quindi per prima cosa io inizio a far rosolare un po' di olio, ma giusto poco, sapete che io uso poco olio. Mettiamo uno spicchio di aglio che ho imparato anche a congelare. Lo mettiamo in basso. Un po' di cipolla rossa, anche questa l'ho congelata, che è sempre comoda e pronta all'uso. Poi vado a tagliare una zucchina. a dadini piccolina. L'ho già lavata ovviamente, ho già fatto questo passaggio, quindi vado a tagliare a dadini piccolini la mia zucchina. Non so se vedete bene. Ecco qua. Nel frattempo sto preparando le colpette al sugo per i miei bambini. Siamo già a buon punto, alziamo un po' i fornelli, il fuoco. L'aglio, come vi dicevo, io lo congelo perché non sempre lo uso in tutte le ricette. E siccome erano più le volte che andava buttato e mi dispiaceva, cosa faccio? Quando lo acquisto, lo sbuccio per bene, divido ogni spicchio e lo metto nel congelatore in un sacchettino. E all'occorrenza è sempre pronto. Un po' così come l'uso della cipolla, quella che si compra. Allora, il nostro olio frigola, quindi buttiamo le nostre zucchine. Ora buttiamo il nostro pesce. Come vi dicevo, è sorgelato. E scongelato per togliergli l'acqua che si va a creare quando si cuoce. A questo punto taglio anche il mio prezzemolo. Questo invece è fresco, preso, preso, ora dal mio balcone. Quindi lo tritiamo e andiamo a metterlo nel nostro preparato. Ecco qua. Ora possiamo aggiungere il pepe. Ovviamente queste cose vanno a gusto. Io aggiungo della curcuma che fa sempre bene, un po' di curcuma e un po' di paprika forte. Una bella spolverata di sale e a fuoco vivo facciamo cuocere. Nel frattempo mettiamo sul brodo che servirà per il nostro couscous. Come vi dicevo, una dose di bicchiere che va bene per due persone e la stessa equivalenza di acqua. Ho preso un terzo di dado e vado a portare a bollore. giro un pochino così vedete. Questo è un piatto unico ovviamente, dove ha proteine. Abbiamo la nostra verdura e un po' di carboidrati. gustosa e veloce. Ovviamente se non avete la zucchina potete metterci un peperone sbollentato, potete metterci dei piselli, potete metterci quello che volete. Fare più verdure insieme. come meglio preferite voi. Come vedete è velocissima da fare. Allora, il nostro dado si sta sciogliendo. possiamo andare a mettere il nostro couscous perché l'acqua bolle. quindi versiamo il couscous nell'acqua bollente. Lo spargiamo bene all'interno dell'acqua. A questo punto possiamo spegnere e lasciarlo a riposare per un coperchio. Lo lasciamo lì. almeno sei minuti. Intanto che il nostro composto tanto una volta scongelato ci vuole ben poco per far cuocere il pesce. La zucchina a me piace croccante quindi la lascio così. ecco. Come vedete in padella c'è pochissima acqua e il risultato che volevo raggiungere io in modo tale che il pesce non diventi molle molle per mantenere la sua consistenza. il couscous ha già si è già bevuto tutta l'acqua che aveva mi raccomando poi va sgranato con una forchetta non col cucchiaio ho preparato la mia forchetta passiamo un filino a a a è quasi già pronto il nostro couscous vi faccio vedere così poi andiamo ad impiattarlo vedete si è già bevuto tutto il brodo lo lasciamo ancora cotto il secondo intanto prepariamo una bella ciotola ecco qua una bella terrina chiamiamola terrina prendiamo il nostro couscous con la forchetta guardate ecco qua iniziamo a versarne un pochino spegniamo la nostra padella guardate ecco qua ora versiamo l'altra metà di composto di couscous io col couscous ho riscoperto anche la melanzana che ci sta molto bene mettiamo il restante e siccome per cuocere il pesce ho usato veramente pochissimo olio prima di servirlo andrò ad aggiungere un altro cucchiaio di olio evo e la nostra ricetta salva pranzo salva cena è pronta buon appetito e a presto ciao ciao ciao